I presidenti delle regioni chiederanno un incontro al governo per affrontare il tema delle distanze minime per le trivellazioni offshore e quanto deciso dalla conferenza delle regioni che ha colto le richieste della regione Abruzzo di investire il governo sulla modifica dell'articolo 35 del decreto sviluppo che abroga parte del decreto legislativo 128 del 2010. La materia verrà trattata dalla Commissione Energia della conferenza che stilerà un documento politico che a sua volta passerà all'esame dei presidenti di regione per la definitiva richiesta di confronto con il governo. Si tratta di una posizione forte dei presidenti di regione, ha commentato il governatore Chiodi al termine della riunione, che certifica quanto sia sentito il problema delle trivellazioni in mare e quanto si debba intervenire per correggere le anomalie dell'articolo 35. Lo spostamento sul tavolo nazionale delle regioni della questione ombrina mare, sulla quale Chiodi ha confermato la netta contrarietà della regione Abruzzo, ha fornito ad altre regioni come Basilicata e Calabria l'occasione per illustrarne esperienze simili sulle acque prospicenti i propri territori e facendo emergere dunque che quelle abruzzesi non è l'unica avvertenza trivelle in atto. Io credo, ha poi aggiunto Chiodi, che si siano messe in atto delle ottime iniziative politiche che porteranno sicuramente e prossimamente a dei risultati concreti. Grazie.